eccomi qua purtroppo ho dovuto abbandonare per causa di forze maggiori un incidente in moto praticamente sono uscito di strada e un paletto che c'era al posto del one drive mi ha aperto il piede ha rotto quattro ossa e reciso una vena adesso mi hanno curato e medicato e dovrò poi essere operato in italia ho qui i miei amici e abbiamo l'amica e c'è lei qui c'è Nella adesso ve lo rimandiamo a casa Bruno Massimo sono tutti loro i miei amici eccoci qua e loro continueranno il giro per me continuiamo il giro con te e quando non sei a casa prima tu devi essere sistemato e a posto io qui ho i gatti che mi tengo compagnia ho un sacco di gatti qualche litiga e lo fanno sul canino all'ospedale è un buono non è una battuta veramente ci sono i gatti in camera dormono con me e mangiano un abbraccio a tutti e seguiteci sempre ciao 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 ciao